Le materie relative agli aspetti socioculturali, igienico-sanitari, istituzionali e legislativi e ancora della sfera della psicologia, queste alcune delle aree disciplinari che saranno trattate durante le lezioni nel corso dei 12 mesi in cui si svolgeranno i percorsi formativi presentati al CEFBAS di riqualificazione e qualificazione in operatore sociosanitario OS per il personale delle IPAB, seguendo le direttive del decreto numero 508 del 2022 dell'assessore regionale della salute Ruggero Razza. Saranno 105 corsisti coinvolti nelle attività formative che si svolgeranno sia in presenza che a distanza e dunque in dad a partire da mercoledì 20 luglio. La regione siciliana ha scelto il CEFBAS di Caltanissetta per l'organizzazione e la realizzazione di questo percorso didattico di mille ore complessive, suddivise in un modulo di base per la formazione teorica di 200 ore, un modulo professionalizzante di 350 ore, 250 di formazione teorica e 100 di esercitazioni pratiche e infine è previsto un tirocino obbligatorio di 450 ore.